Buongiorno, sono Irene Tolomei di Aroma Restra e questa è la nostra proposta di imbrancio alla romana. In abbinamento con la miscela blu caffè borbone ho pensato a un club sandwich alla romana con all'interno un po' della vaccinara, pomodori secchi, sedano e un pan baoletto con impasto al cacao appunto per riprendere la tradizione. Pizza romana 72 ore di lievitazione con all'interno mortadella e pistacchi, il nostro pane sfogliato cacio e pepe perché appunto è stato sfogliato con un burro al pepe, maritozzo salato, alici, puntarelle e ricotta in salvietta, una treccia di brioche con all'interno un salame tipico romano che è la finocchiona e qui tutto il nostro alato dolce. Quindi un cake, nocciola e caffè, la tipica crostata ricotta e viscere in versione moderna con all'interno una crema di ricotta, del crumble al cacao, una gelatina di viscere e qua le nostre uova appunto perché in un brunch non possono mai mancare le uova e noi abbiamo deciso di farle dolci, quindi cocco, mango e pesce al fluid.